Amen. Possiamo prendere posto. Alleluia. Sono sempre io. Buonasera a tutti. No, non è il demonio, tranquilli. Sono leggermente raffreddato e sono stato ieri con la febbre altissima ma ho detto, signore, se tu sei riuscito a scacciare la febbre alla suocera di Pietro pensa se non lo riesci a fare a me. Il signore mi ha risposto, stanotte alle due, manco la bocca devi aprire. Domani vai e predica. Grazie, mi volevate ancora a letto? Non lo so. Pensate che doveva predicare il diacono Umberto eravamo rimasti così. Io in realtà oggi dovevo stare a Lecce e invece mi trovo qui con voi e ho detto, Umberto, visto che è così la storia oggi porto un messaggio. Guarda caso, lui aveva sentito nel cuore che dovevo predicare io. È vero o no? Diacono. Bene, allora, mentre si accingono dalla regia a mettere, insomma, i versi del giorno eccolo qua, l'ho trovato il titolo dello studio di oggi, Dani, qual è? Io te l'ho scritto apposta se che io me lo dimentico Non lasciarti rubare No, 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 no Un dono che ci lasciamo spesso rubare Sapete, chiesa, che noi ci lasciamo rubare spesso molto spesso un dono un qualcosa non un dono spirituale un qualcosa che Gesù ci regala noi puntualmente ogni giorno ce lo facciamo rubare Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Rilassatevi Possiamo già leggere il primo verso? Bene, andiamo nelle nostre Bibbie in Giovanni chi non ha la Bibbia può leggerla a muro Giovanni, capitolo 14 Gesù dice Vi ho detto queste cose stando ancora con voi ma il Consolatore lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto C'è qualcuno qui che sa di sapere tutto? Perché sai ci sono delle persone che sono convinte che sanno tutto che sanno tutto della vita sanno fare le cose sanno muoversi io so, io so, io so io quando ho letto questi versi ho imparato una cosa che ogni giorno lo Spirito Santo c'è qualcosa che mi vuole insegnare e se io non ascolto lo Spirito Santo ogni giorno sapete cosa divento? Un arrogante un presuntuoso e poi le cose non funzionano nella vita perché? perché non abbiamo ascoltato lo Spirito Santo ma andiamo avanti lui dice vi insegnerà ogni cosa tutto ti può insegnare lo Spirito Santo poi nel verso 27 dice vi lascio la pace vi do dice Gesù la mia pace io non vi do come il mondo dà il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti Gesù sta parlando ai suoi discepoli mentre parlava in questi versi e voleva dirgli tante altre cose ma sapeva Gesù che non sarebbero stati in grado di poterle capire per questo dice lo Spirito Santo quando verrà mi insegnerà ed egli fu inviato lo Spirito Santo dal Padre nel nome di Cristo quando? il giorno di Pentecoste e lo Spirito Santo venne nel nome di Cristo nel senso che venne per rappresentare gli interessi di Cristo sulla terra lo vuoi ripetere? lo Spirito Santo è venuto per rappresentare gli interessi di Cristo sulla terra non venne per glorificare se stesso bensì per attirare uomini e donne al Salvatore questo è stato lo scopo dello Spirito Santo e il Signore disse vi insegnerà ogni cosa come insegna lo Spirito Santo? perché magari c'è qualcuno che è nuovo sta a Martina sei Martina tu Martina dice vabbè com'è lo Spirito Santo insegna? ti lasceresti insegnare? domanda prima domanda ti lasceresti insegnare? o sei ancora quella persona che dice a me non mi devi dire quello che devo fare perché ci sono persone che vivono così tu mi devi dire a me quello che io devo fare? se hai questa attitudine lo farai anche con Dio seconda domanda se è insegnabile un buon leader e un buon cristiano insegnabile o pensi di saper fare tutto da solo posso fare un'altra domanda c'è qualcuno qui che è in grado di fare tutto da solo? no ci può essere no 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 sto scherzando sì c'è c'è se c'è qualcuno qui presente che è in grado di fare tutto da solo allora voglio darti una bella notizia sicuramente sei in grado di fare tante cose forse saranno tantissime le cose che tu sei fare non ti voglio buttare giù ma dai voglio davvero credici saranno tantissimissimissimissimissimissime le cose che tu sei fare ma da solo non saresti in grado di salvarti e quindi hai bisogno di un salvatore e quindi di Gesù c'è qualcuno che è in grado di salvarsi qui visto che non puoi fare tutto da solo hai visto non possiamo fare tutto da solo ma torniamo a noi Gesù dice che lo spirito è in grado di insegnarci ogni cosa effettivamente Dio è uniscente effettivamente ogni sapiente lui sa tutto sai perché lui è il creatore di tutto ti lasceresti insegnare dal creatore del tutto tu ti lasceresti insegnare da chi ha creato tutto cerca di concentrarti adesso ti lasceresti insegnare da chi ti ha progettato da chi ti ha formato da chi ti ha creato da chi ha soffiato vita dentro di te da chi ti ha amato fin dal primo giorno ti lasceresti insegnare da lui non ti sto dicendo non pincopallino qualsiasi dal tuo creatore la risposta è scontata tutti qui direte in coro si è vero lo proviamo ti lasceresti insegnare dal tuo creatore ma nella pratica è così nella vita quotidiana è così se è così sono felice per te dobbiamo renderci conto che la nostra vita è fondata dalle nostre scelte e le nostre scelte sono guidate dal nostro carattere e da un'altra brutta cosa questa scatola che brutta poi non è se la sappiamo usare la nostra mente i nostri pensieri il nostro modo di pensare viene fuori da che cosa dalle nostre esperienze di vita ma il nostro pensiero il nostro carattere viene fuori ed è formato dai nostri primi insegnanti chi sono stati i tuoi primi insegnanti mamma e papà voglio dirti questo non tanto te la prendere con i tuoi genitori se sono così perché tu avrai metà di mamma e metà di papà o un po' e un po' è inevitabile sono stati i nostri primi insegnanti il detto dice tale padre tale figlio non c'è è vero è vero io certa volta dicevo il signore veramente assomiglia al mio padre il signore mi disse fattene una pace è così so che qualcuno ha il rifiuto qual è la persona dei tuoi genitori che ti sta sullo stomaco tu sei la sua fotocopia non è perdere proprio tempo so che a qualcuno fa male sta cosa ma te la devo dire sono chiamato a dire la verità nel nome di Gesù perdonatemi ogni tanto la tosse è vero? grazie tu sei inevitabilmente qualcosa di mamma e qualcosa di papà loro ti hanno insegnato sicuramente avrai dei lati positivi e buoni del carattere ma avrai anche una parte di te che ha un caratteraccio lo vuoi ripetere caratteraccio? caratteraccio quanti di voi hanno un caratteraccio? ma no nessuno può dire che è nato con un brutto carattere tu non sei nato con un brutto carattere quindi quanti di voi hanno un caratteraccio? pure il vostro pastore ce l'ha la scrittura ci insegna che dobbiamo imitare Cristo avere la sua mente avere il suo carattere e per poter ricevere la mente di Cristo il carattere di Cristo che dobbiamo fare? ci dobbiamo lasciare insegnare da Cristo di alla persona accanto a te se vuoi la mente di Cristo lasciati insegnare da Lui perché la mente che hai oggi è l'insegnamento di mamma di papà e della vita allora stacchiamoci da quello che è il mondo io non sto dicendo che l'insegnamento di mamma e papà non è buono lo sottolineo sicuramente avrai imparato tante cose buone da mamma e da papà che sicuramente Cristo ti confermerà ma ci sono delle cose del mondo che dovrai togliere e che Cristo ti insegnerà dove sono arrivato? ok lasciamoci insegnare dallo Spirito Santo che senza dubbio è la migliore guida guardate molti sanno la mia storia io ho risparmiato mille euro quando dovevo comprare i mobili prima di sposarmi eravamo in un mobilificio c'era questo mobiliere che faceva tutte le smancerie vedo che siete ragazzi speciali tutti chiacchieravano ma lo Spirito Santo mi diceva vattene da dove vattene da dove mi diceva tutto questo 5.000 euro mia moglie era credente da qualche anno io ero abbastanza cresciuto nella fede lo Spirito Santo mi diceva moda sparesce da dove mia moglie firma io ho detto mi dai qualche giorno per pregare per pensare le dissi al mobiliere non le dissi per pregare per pensare quando uscimo fuori mia moglie mi dice ma sei pazzo amore 5.000 euro oh wait pastore ma tu hai pregato per i mobili sì pastore ma sei bigotto no sono sparando a 1.000 euro no no ce ne stavamo andando poi questa storia sta scritta sul libro che io ho scritto sta arrivando alla fine Giulia la sa la storia e mentre stavamo andando a Fasano mi fermo in un mobilificio famoso di San Michele che non ha tanto prezzi bassini abbastanza costoso e il signore mi disse dovevo fermare e io gli disse mia moglie amore qua ci dobbiamo fermare mia moglie dice ma questo è caro il signore mi ha detto qua mia moglie quando mi diceva il signore mi ha detto qua quella mi guardava così ci fermammo gli stessi mobili della stessa marca 4.000 euro qual è la differenza da quel mobilificio a quello che ho scelto io sì c'è una differenza 1.000 euro nel mio portafoglio tu li butteresti poi ho risparmiato altre cose durante il matrimonio gli ho scritte su questo libro semplicemente pregando pregare significa sentire lo spirito santo e lui ti dice no vai di qua e vai là cioè non lasciarsi prendere dalle emozioni va bene ma torniamo a noi ne basta la pena pregare per risparmiare 1.000 euro cace in ebraico noi sappiamo l'ebraico Martina perché lasciarsi insegnare dallo spirito santo Giacomo dice che la saggezza viene dall'alto e la saggezza che viene dall'alto è la migliore dobbiamo sempre migliorare il nostro rapporto con Dio Gesù stesso dipendeva dal padre Gesù stesso si lasciava consigliare dal padre vi ricordate il rapporto di Mosè con Dio? abbiamo fatto uno studio su questo il rapporto di Mosè con Dio non era un rapporto occasionale cioè Mosè non condattava Dio ogni tanto Mosè non aveva un rapporto egoistico con Dio e se mi dai questo io faccio anzi volete sapere la verità che Mosè nemmeno aveva un rapporto con Dio pastore ma che stai dicendo Mosè era dipendente da Dio che è diverso da avere un rapporto dipendeva ciecamente da Dio questo insegnamento l'abbiamo fatto no? giustamente no? qualcuno si chiede ok 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 pastore ho deciso di lasciarmi guidare dallo spirito santo quanti lo vorranno questa sera? pastore ho deciso mi lascio guidare dallo spirito santo Martina fidati ora dovrei aspettarmi una voce celestiale che viene dall'alto tipo Nico assolutamente no tranquilli lo spirito santo insegna in diversi modi attraverso la predicazione come in questo momento attraverso le sacre scritture attraverso i momenti intimi di preghiera attraverso i deserti attraverso i momenti bui della vita se accadono è perché Dio ti vuole insegnare qualcosa molto spesso Dio è spirito e tu prima di essere carne sei un essere spirituale ed è questo quello che noi sottovalutiamo che siamo esseri spirituali molti non lo sanno quindi Dio parlerà non al tuo orecchio ma Dio parlerà al tuo spirito è una comunicazione tra spiriti molto meglio che Fastweb e ADSL ti do un consiglio lasciati guidare da Lui è la migliore scelta che tu possa fare e Gesù stava per morire e di solito una persona prima di morire almeno prima era così faceva un testamento vero? io non so se tu sei mai morto ma mi hanno detto che prima era così non so quanti di voi sono morti e hanno lasciato un testamento nessuno ancora ma è me però io so che prima le persone prima di morire lasciavano un testamento ma non si usa più sta cosa comunque Gesù stava morendo e lascia una eredità ai suoi discepoli di solito di solito si lasciano cosa case soldi terreni ripeto un tempo adesso non più perché mica abbiamo le case i soldi mica abbiamo i terreni quelli ormai li abbiamo intestati allo Stato vero? ma Gesù lascia ai suoi un'eredità non fatta di beni materiali ma qualcosa che vale molto di più vuoi ripetere come è molto di più? e lo sapete la cosa bella? è che nessuno può comprare sapete che cos'è? la pace la pace è quel regalo che ci lasciamo rubare spesso la pace è quel regalo che ci lasciamo rubare spesso se dovessi farvi una domanda direi quanti di voi hanno pace per alzata di mano? alzate la mano chi ha pace sinceri ok e quanti invece hanno la pace di Cristo? come notiamo ve ne sono di due tipi mi spiace se sei stato deluso dalla vita intera ma per chi non lo sa ci sono due tipi di pace e sono due tipi di pace completamente diversi tra loro completamente diversi tra loro ascoltami bene esiste una pace mondana una pace terrena una pace che dipende dalle situazioni che dipende dalle circostanze sto in pace con te perché la pensi come me ma appena ti distogli un attimo io litigo con te una pace terrena può essere quella pagante quando ti compri l'abito griffato il cellulare di ultima tecnologia che poi ultima tecnologia significa 15 giorni perché 15 giorni dopo è già uscito l'altro quindi quando dura la tua pace 15 giorni una pace che tu hai quando ti compri la macchina high tech che c'ha tutto e poi ti accorgi che questa pace il giorno dopo va via e l'hai pure pagata tanto una pace che hai quando c'è lavoro ma appena vieni licenziato e preghiamo per quelli del mercatone uno questa pace va via una pace che c'è quando hai soldi è una pace che va via quando ti rimangono pochi centesimi che pace hai quale pace hai ecco se tu hai questa pace questa non è la pace di Gesù questa è la pace del mondo una pace che si sta burlando di te anzi io non la definisco nemmeno pace sapete come io la definisco una sensazione momentanea di pace ma che non ha niente a che fare con la pace cioè quella pace che tu hai quando tutto procede come tu vuoi ma quando le cose non vanno come vuoi tu questa pace va via vero? poi esiste la pace che Gesù dà e vediamo la differenza prima di tutto la pace di Gesù è gratis tu non devi comprare qualcosa per avere pace io vi do la mia pace ed è gratis ma che ha un gran valore una pace che non è una egoista non è una pace avara non è una pace breve anzi è una pace che dura per sempre vuoi sapere la verità? la pace la durata della pace dipende solo da te questa pace che Gesù dà dipende solo da te la parola pace voi lo sapete no? deriva dall'ebraico shamanì shalom shalom ma shalom ma shalom non significa pace in sé shalom è diventato un saluto che Gesù dava ai suoi ma shalom è un qualcosa di molto più profondo shalom non vuol dire solamente pace cioè assenza di guerra shalom vuol dire anche un buono stato di salute fisica felicità prosperità è una formula è una forma di saluto ovviamente ma in realtà è anche una benedizione e questa è la pace che Dio ti dà e questa pace che Gesù dà è proprio quella situazione di tranquillità nei momenti difficili se tu nei momenti difficili hai pace vuol dire che hai la pace di Gesù ma se nei momenti difficili ti lagni dove sta la pace? la pace che Gesù dà è quella pace che tu hai nei tempi duri di deserto quella pace che caccia via la paura e che regna nei cuori instancabilmente lasciando un'armonia interiore incredibile può succedere quel che possa succedere fuori ma io dentro rimango in pace può succedere che un fratello e una sorella ti alza il telefono e te le canta di cotte di crude che tu dici ma si ma da dove ti viene? io invece di fronte a una telefonata del genere dico puoi dirmi tutto quello che vuoi non ti permetto di rubare la pace che ho dentro non te lo permetto se tu sei frustrato io non te lo permetto questo stato di pace interiore può durare in eterno può durare per sempre o può durare solo pochi minuti dipende da te vuoi dire alla persona accanto a te non lasciarti rubare la pace di Gesù da nessuno nemmeno da te stesso la pace di Gesù è davvero speciale è diversa da quella del mondo Gesù termina il discorso con i suoi dicendo il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti non permettere a te stesso di essere agitato arrabbiato addirato perché così farai fuggire la pace io decido di non arrabbiarmi a cosa serve quando ti arrabbi tu dimmi quando ti arrabbi che cosa vuoi risolvere nude niente anzi se ti arrabbi una cosa può succedere sicuramente quella situazione può diventare peggiore di prima a cosa serve arrabbiarti a cosa serve sfogare e fare le parate a che serve cosa cambia cosa ti cambia a te niente ti stai facendo male a cosa serve usare male la lingua niente quindi io decido di non arrabbiarmi io decido di non addirarmi lo decido io è una mia scelta quante volte diciamo chi quello cudo mi faceva un sistema nervoso a me quante volte l'abbiamo detto a me non succede più questa cosa quello mi fa un sistema nervoso e che sono scemo che mi devo far rovinare io la pace lui ha problemi e devo avere problemi io no 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 scusa Giuseppe è uno a caso purtroppo chi si mette in prima file così si paga il biletto io non sono mica scemo che mi lascia rubare è chiaro vi sto dando delle piccole cose per non lasciarci rubare la pace questo ci permette di farci rubare la pace capisco cosa mi vuoi dire pastore ma come si fa non essere agitati non le vedi le circostanze della vita il lavoro manca è quello così è quello di sopra con la tovaglia è quello di aca è quello che fa così ma come si fa a stare calmi dai pastore ti prego ti prego non è possibile è vero questa è la domanda che mi volete fare è vero ditemelo sì di pastore come si fa c'è la pace quando non ci si fa tic tic come si fa si fa ma te lo spiego per questo ti dico vuoi sapere come si fa? chi lo vuol sapere come si fa? quando smetterai di gestire la tua vita e la lascerai nelle mani di Dio allora avrai pace smetti di gestire la tua vita scusa amore non mi volevo arrabbiare che è questo sono capacchioni non è a te non è a te dai dai lasciamo che sia lo spirito santo a gestire la nostra vita l'abbiamo detto prima abbiamo bisogno di una guida per questo ho fatto la premessa prima della pace c'è qualcuno che è in grado di gestire la tua vita avete detto no e allora dite no e poi vi manca la pace perché gestite la vostra vita ci vogliamo lasciare ammaestrare insegnare dal nostro creatore allora ci dobbiamo prendere sul nostro collo il gioco di Gesù che è dolce e che è leggero Gesù in Marco rimproverò i suoi discepoli durante una tempesta perché avevano poca fide e quindi avevano perso la pace erano nel panico erano tutti molto agitati mentre Gesù stava dormendo nella tempesta sai cinese sai tu saresti rimasto a poppa della barca e goderti la pace interiore insieme a Gesù sono pavitando da terra insieme a me allora dia alla persona che è accanto a te e memorizza questo verso che non è un verso biblico ma ti aiuterà nei momenti difficili se non hai pace non ti stai godendo la vita che messaggio mi ha dato Dio se non hai pace tu non ti stai godendo la vita perché la mancanza di pace scatena un qualcosa interiore che ti ammali e non te la godi la vita e questo perché? perché la vuoi gestire tu perché vuoi che le cose vadino come vuoi tu vadano grazie amore meno male che tengate una delle cose ascolta questa questa è forte ma questa entrerà nei cuori farà come farà? una delle cose più frustranti della vita è che dobbiamo riuscire a fare per forza qualcosa in situazioni in cui sappiamo che non possiamo fare niente ma fa forza questa è una cosa frustrante io lo devo fare io lo devo fare eh oh stati in pace riconosci le tue debolezze riconosci i tuoi limiti ehi non ti frustrare oppure tentare costi quel che costi per far accadere qualcosa non devi accadere qualcosa mi devo far vedere non ti frustrare ti stai facendo male stai perdendo la pace questo atteggiamento ti ruberà la pace e sicuramente ti farà fare scelte sbagliate devi solo aspettare i tempi di Dio lui non arriva mai prima e non arriva mai dopo certe volte vogliamo cambiare le persone che ci circondano signore cambia mio marito cambia mia moglie ti posso assicurare che tua madre avrà pregato signore cambia Martina ti prego è così lo fanno tutti i genitori è vero? tutti vogliamo che gli altri cambino le persone non possono cambiare le persone le persone non possono cambiare le persone solo Dio è in grado di entrare nei cuori delle persone e suscitare un desiderio di cambiamento e quando noi invece costringiamo le persone dall'esterno a cambiare sapete cosa accade? le mettiamo sotto pressione e alla fine accadrà che tutti e due non avranno più la pace tu dall'esterno dici no tu devi cambiare la faccia ti metti proprio al tambur battendo non cambierà vuoi una soluzione per far cambiare gli altri? te la do inizia a cambiare tu eh sì io sto perfetto io non devo cambiare niente l'unica cosa che mi devo cambiare sono le robe perché si sporcano le scarpe perché si consumano e basta io sto a posto così perché noi siamo così arroganti gli altri devono cambiare io sto a posto è vero? siamo sinceri quando invece se cerchi di costringere qualcuno a cambiare allora perderai la pace perderai la tua pace stai tentando invece di cambiare te stesso? ma vabbè per farlo hai sicuramente bisogno di una grande guida sai? hai bisogno di un grande insegnante sai? e vuoi vedere che questo insegnante si chiama Spirito Santo colui che ti ha creato e ti conosce? ma va prova una grande guida prova ti sto dicendo prova a collaborare con lui nell'opera che egli vuole fare nella tua vita non dille a Dio cosa deve fare nella tua vita tu devi collaborare con lui e dille cosa vuoi che io debba fare nella mia vita gustati la pace e per poterlo fare devi vivere secondo la volontà di Dio molti non gustano la pace sapete perché? perché seguono la propria volontà e non si lasciano guidare dallo Spirito Santo lasciati anche guidare dalla pace certe volte sembra che stiamo facendo la cosa buona stiamo facendo la cosa giusta ma non abbiamo dentro pace io ho imparato questo quando io dentro non ho pace lascio stare lascio stare non ho pace lascio guardate che nella pace c'è anche potenza per questo Gesù ci ha lasciato questo regalo per questo la sua eredità è la pace non lasciarti rubare la pace da nessuno né da te stesso né dalle circostanze né dalle situazioni questa pace è un tesoro per te lasciati guidare dallo Spirito Santo perché lui sa cosa è buono per te lui è il meglio per te da oggi voglio dirti sii saggio perché mettendo in pratica queste cose accadrà che tu acquisterai nuove forze e in Isaia 40 dice quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze si alzano in volo come aquile corrono e non si stancano camminano e non si affaticano chi quelli che acquistano nuove forze da chi da Dio tu non stai volando perché vuoi fare le cose a modo tuo vogliamo leggere e ti spiego qual è l'ancora ma perché c'è un'ancora questo è l'ancora il titolo di questo verso è un tesoro in cielo lo leggiamo dice Gesù in Matteo non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano ma fatevi tesori in cielo dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri non scassinano e rubano perché dov'è il tuo tesoro lì sarà anche il tuo cuore il problema è questo che il tuo cuore non sta a Dio sta al tuo tesoro il mio tesoro siamo presi dalle cose terrene il lavoro non c'è come ce la faccio non ce la faccio devo mangiare non devo mangiare mi devo vestire non mi devo vestire stai servendo mammona dice Gesù qui non stai vivendo con la pace di Gesù non stai mettendo al primo posto Gesù quando noi otteniamo le cose terrene quando noi non le otteniamo queste cose terrene che sono il nostro tesoro sapete cosa accade? ce ne andiamo in ansia è vero? quando ci manca già un pacco di pasta una 50 euro nel portafoglio quando vediamo avvicinarsi una scadenza e non abbiamo i soldi ce ne andiamo in ansia come faccio? e adesso? e mo? ma devo andare a rubare? che devo fare? e mo? facciamo così? sai sapete cosa succede? che ce ne andiamo in ansia l'ansia ruba la pace e la pace interiore si affievolisce e va ad affievolire anche lo spirito santo e poi viene in meno la fede e tu zompi così mentre Gesù dorme dall'altra parte chi c'è al primo posto nella tua vita? guardate molto spesso voglio che dovete comprendere questo Gesù è il più grande psicologo dell'umanità il più grande libro di psicologia si chiama Bibbia molto spesso mi dicono le persone ma tu che sei psicologo? dico no è la Bibbia che funziona non so io Gesù ha detto dall'abbondanza del cuore parla la bocca basta che tu mi dici delle cose io capisco dove tu hai il tuo cuore se tu stai ancora disperato perché ti mangono i soldi e così così il tuo cuore non è per Gesù al primo posto nel tuo cuore non c'è Gesù ci sono le cose materiali ci sono le cose terrene non ti voglio offendere ma ti voglio dire la verità sono chiamato a dire la verità per il tuo bene perché se tu noi continuiamo a leggere andiamo avanti poiché dove il tuo cuore lì sarà dove il tuo tesoro lì sarà anche il tuo tesoro la lampada del corpo è l'occhio se dunque il tuo occhio è limpido tutto il tuo corpo sarà illuminato occhio a quello che vedi vai Fabio ma se il tuo occhio è malvagio tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre se dunque la luce che è in te è tenebre quando grandi saranno le tue tenebre? dall'abbondanza del cuore parla la bocca quando tu apri la bocca tu mi dirai il tuo occhio che cosa vede se vede le cose malvagie o vede le cose buone se tu stai nelle tenebre stai nella luce se la tua bocca parla e mi dice delle cose allucinanti io capisco che tu puoi lodare Dio quando vuoi ma tu stai nelle tenebre non è possibile che una persona che loda il Signore dice Giacomo dalla stessa bocca non può uscire il dolce e la mano non mi puoi venire a pregare e due secondi dopo mi stai mettendo un fratello e una sorella in una situazione assurda dove stai? dove è il tuo corpo? dove è Dio nella tua vita? perché tu non hai Dio al primo posto posso non essere cattivo? no io ti amo per questo ti sto parlando così vai avanti nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e ammere all'altro o avrà riguardo per l'uno o disprezzo dell'altro voi non potete servire Dio e Mammona o c'hai Dio al primo posto nella tua vita o c'hai Mammona Mammona è il Dio denaro il Dio delle cose materiali a me se mi manca un piatto di pasta non mi interessa nulla se mi manca Dio sto un po' tanto da terra chiesa è così che dobbiamo vivere a me Dio non mi deve mancare io quando non sento la presenza di Dio sto un po' tanto da terra se vado a casa e mia moglie mi dice non c'hai niente da mangiare io le dico non c'è problema vado a pregare digiuno oggi no problem amore ma non c'hai le robe escimi quelle vecchie ma la camicia ti va stretta ma ne freghi niente non vivo per il vestito non vivo per la macchina alla paese che stiamo a piedi non è che lo sto dicendo così stiamo a piedi ho reso l'idea io non vivo per servire mammona io mi preoccupo quando Dio manca nella mia vita c'è Dio al primo posto nella tua vita? per cosa stai vivendo? volete vedere come rimaniamo in silenzio almeno per tre ore? no dai molto meno l'apostolo Paolo viveva per il Vangelo e ne è sempre uscito fuori da qualsiasi situazione vogliamo vedere se le situazioni di Paolo sono le stesse nostre? le paragoniamo? andiamo a leggere seconda Corinzi dice Paolo sono servitore di Cristo io parlo come uno fuori di sé come sto che parla io? come uno pazzo io sono più di loro più di loro per le fatiche più di loro per le prigionie assai più di loro per le percosse subite spesso sono stato in pericolo di morte tu sei stato in pericolo di morte? vai dai giudei cinque volte ho ricevuto 40 colpi meno uno tre volte sono stato battuto con le verghe siamo stati battuti con le verghe? una volta sono stato lapidato siamo stati lapidati? tre volte ho fatto un naufragio ho passato un giorno e una notte negli abissi marini vai avanti spesso in viaggio in pericolo sui fiumi in pericolo per i briganti in pericolo da parte dei miei connazionali in pericolo da parte degli stanieri in pericolo nelle città in pericolo nei deserti in pericolo sul mare in pericoli tra falsi fratelli sei stato in pericolo tra falsi fratelli? in fatiche e in pene spesse volte inveglie nella fame e nella sete spesse volte nei digiuni nel freddo e nella nudità Paolo vai oltre a tutto il resto sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese la capta Paolo e il regno di Dio era Dio era Dio era Dio però tutti vogliamo fare le cose di Paolo è vero? tutti vogliamo essere San Paolo della situazione è vero? ma nessuno vuole vivere come Paolo basta che ci manca mezzo chilo di pasta posso mangiare vai avanti chi è debole senza che io mi senta debole con lui chi è scandalizzato senza che io frema per lui se bisogna vantarsi io mi vanterò della mia debolezza non mi vanterò perché c'ho il telefono all'ultima moda per il vestito perché c'ho una una dispensa piena di cibo se c'ho una casa se non ce l'ho io non mi vanterò di questo mi vanterò delle mie debolezze vai avanti il Dio e padre del nostro Signore Gesù che è benedetto in Eterno sa che io non mento a Damasco il governo vabbè poi puoi andare avanti puoi chiudere non preoccuparti fino al 33 puoi chiudere Paolo poi arriva in una città di Damasco lo stanno perseguitando per ucciderlo e viene calato ve lo ricordate in una cesta da un muro viene salvato ok allora io mi domando perché tutto ciò arrivo a conclusione perché tutto ciò perché Paolo ha vissuto tutto ciò perché Paolo sapeva una cosa importante vuoi sapere anche una cosa che la stessa cosa che sapeva Paolo adesso la saprai anche tu e non hai più chance nel senso che non puoi più trovare scuse cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più Paolo non ne aveva shame e manco il pastore aveva shame perché sapeva che se cercavo prima il regno di Dio la macchina la devo uscire le robe le avrò da mangiare avrò da dormire avrò di chi mi devo preoccupare se Dio è con me chi sarà contro di me il problema è che noi con le nostre ansie rendiamo piccolo il nostro Dio con le nostre ansie diciamo a Dio tu non sei in grado di darmi un lavoro tu non sei in grado di anziché lamentarti mettiti in ginocchio incomincia a innalzare il tuo Dio incomincia a dare gloria a Lui e vedi come le porte si aprono non siate dunque in ansia per il domani perché il domani si preoccuperà di se stesso basta a ciascun giorno il suo affanno voglio concludere Paolo dice queste parole in filippesi rallegratevi sempre nel Signore lo vogliamo ripetere? rallegratevi sempre nel Signore sapete che significa sempre? no no tutti i giorni rallegratevi sempre significa quando tu stai morendo di fame rallegratevi sempre quando tu non hai un centesimo nella tasca quando tu stai senza lavoro quando tu non hai vestiti quando tu non stai bene quando stai nel dolore stai nell'angoscia tu ti devi rallegrare sempre del Signore perché il Signore è il tuo tutto ripeto rallegratevi poi al verso 5 la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini il Signore è vicino guardate al secco cosa dice Paolo non angustiatevi di nulla non preoccuparti di niente ma di niente comprendi che sta dicendo nulla significa niente manco quando stai morendo non ti devi preoccupare perché se tu sai che hai vissuto una vita in linea con la scrittura la morte non è una tua preoccupazione sarà una tua gioia se ti preoccupi vuol dire che sai già il tuo destino ma ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a chi? come? io faccio così quando io ho bisogno di 100 euro ginocchio quando io ho bisogno di un pacco di pasta ma no quando io ho bisogno di un pacco di pasta qualsiasi cosa io ho bisogno ginocchia chiesa io se mi chiedete pastore io sono senza soldi ti dico ok vado in ginocchia per te ma funzionerà più la tua fede della mia cioè Dio ascolterà prima te che poi me cioè io pregherò comunque perché siamo chiamati a pregare gli uni per gli altri è bello avere questo spirito in comunione ok ma se lo faccio io e tu non lo fai non avrai niente poi non si dice ma un pastore non condannato non sei tu che non condannato perché sei tu che devi pregare perché dice il signore fate conoscere le vostre le vostre richieste a Dio in preghiere e soppliche accompagnate da ringraziamenti sapete che cosa significa accompagnati da ringraziamenti ringraziare prima che tu l'hai avuta ma Martina che sta qua per il primo giorno ma dove mi ha portato papà in una gabbia di matti questi ringraziano Dio prima di ricevere le cose sì perché questo è fede perché se tu lo ringrazio quando l'hai avuto che cappero di fede è non è più fede allora io ringrazio Dio già per un locale di culto più grande ringrazio Dio già per un gruppo di lode adorazione ringrazio Dio per nuovi ministri ringrazio Dio per ogni cosa ringrazio Dio anche per un lavoro nuovo per me signore grazie perché mi hai dato già un lavoro signore grazie perché già hai provveduto domani prima sai perché molto spesso noi andiamo in preghiera solo quando abbiamo bisogno ecco il problema la bocca della verità andiamo andiamo e guardate cosa succede quando tu preghi tu stai male fai in supplica e preghiera tu preghi ringrazio il signore et voilà e guardate un po' come questa pace di Dio che supera ogni intelligenza sapete che significa che supera il tuo cervello malato tutti questi pensieri che tu ti fai la pace di Dio li supera la pace di Dio va oltre questi pensieri che c'è qua ogni tanto c'è il tasto al tuo cervello reset fallo fallo la pace di Dio supera i tuoi pensieri sono le cose che più ti castigano che ti pensieri la pace di Dio supera ogni intelligenza e custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù quando tu pregherai ringrazierai Dio metterà pensieri suoi che vengono dall'alto tu avrai pace e la fede verrà messa in azione tu riceverai perché molto spesso tu non ricevi perché la tua bocca parla male sei tu che non vuoi ricevere sai dia a Gesù sì ciao dia la persona accanto a te Gesù mantiene le sue promesse quanti credono in questo? ascolta adesso quindi fratelli no scusate andiamo avanti quindi fratelli dice Paolo tutte le cose vere ripeti con me vere tutte le cose onorevoli tutte le cose 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 e quelle in cui in qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri tutto il resto sciottate dalla mondizia non servono ti fanno male ti fanno male se tu stai dicendo no che ora devi andare indietro perché questo verso così è bello lo devi fare al contrario per scuotere un po' lo devi fare al contrario tutte le bugie tutte le cose bruttissime tutte le cose ingiuste tutte le cose impure tutte le cose odiabili tutte le cose che hanno brutta fama che non hanno virtù che non fanno lode siano oggetto dei vostri pensieri vi fanno morire se dici le bugie se hai questi pensieri di schifo vi rubano la pace ora vai avanti le cose che avete imparate ricevute e udite da me e viste da me fatele perché oppla perché il Dio della pace sarà con voi quando tu hai questi pensieri il Dio della pace sarà con voi perché Dio non può stare con una persona che è tenumacido guardate cosa succede ma veniva questa cosa dai facciamo di nuovo Gesù mantiene le sue promesse ha detto che il Dio della pace sarà con voi abbiamo finito ragazzi credeteci insegnando loro stava insegnando discepoli o di osservare tutte queste cose che vi ho comandato e poi lui termine dice ecco io sarò con voi sì sono sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente Gesù ti ha promesso che vuole stare con te sempre e se Gesù vuole stare con te tu ti porti Gesù sempre con te cosa avrai se non la sua pace se non il suo gioco oh Gesù ma se vi stacchetto ma c'è vuoi ma hai visto cosa ha detto quello ma per favore vai tu ti prego Gesù vai tu se vado io faccio casino avete portato la voce della verità chiudiamo davvero chiuso quando vai in ansia quando ti lasci rubare la pace è perché non stai vivendo per Gesù stai vivendo per te vivi per le tue cose materiali vivi per lavorare vivi per i soldi vivi per mangiare vivi per vivere ma questo vivere per vivere è una menzogna perché se vivi così stai morendo non stai vivendo vivi per le cose materiali metti al primo posto Gesù nella tua vita e poi vedi se le cose non cambiano a tuo favore a chi pesa 50 euro a chi pesa mollare 50 euro a tanti se hai questo problema prega perché quella 50 euro ti sta guidando ti sta manipolando a chi pesa togliere una sigaretta prega perché quella sigaretta ha un posto importante a chi pesa chiedere scusa prega perché quel chiedere scusa ha un peso importante ha preso il posto di Dio guardate l'idolatria non è un santo non è una madonnina l'idolatria è tutto quello che prende il posto di Dio a chi viene difficile sesso pornografia quello ha preso il posto di Dio a chi viene difficile ubbidire alle autorità quello ha preso il posto di Dio a chi viene difficile perdonare quello ha preso il posto di Dio dobbiamo mettere Gesù al primo posto nella nostra vita solo così le cose cambiano a nostro favore dice Paolo Romani se Dio è con voi chi sarà contro di voi possibile mai che le tue preoccupazioni sono più forti di colui che è risorto e che ha vinto la morte fatti questa domanda possibile mai i tuoi problemi sono più forti di Gesù che ha vinto la morte che è risorto Dio ci insegna a pregare per qualsiasi cosa Dio ci insegna a pregare per ogni circostanza Dio ha detto nella sua parola che noi possiamo prendere una situazione e portarla all'esistenza il tempo che tu stai usando per lagnarti lo stesso tempo lo usi bene pregando tu ti lagnati io non ce la faccio come devo fare tu vai a casa e vedi una situazione disastrosa hai due possibilità o lagnarti e piangerti addosso oppure piegarti e dire signore io porto all'esistenza questa situazione che non ce la faccio più ti prego nel nome di Gesù metti a tacere quella strega dammi questo dammi perché io devo lo darti e quando tu mi darei questo io innalzerò il tuo nome certo che è così certo che è così certo che è così certo che è così io non ce la faccio più fai tu sento molto dire questa cosa che è una menzogna è quello si sta divertendo no 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 quello lo stai facendo divertire tu sai devi imparare questo il diavolo ha potere zero se ha potere perché tu glielo stai dando quindi se si sta divertendo sei tu che lo stai facendo divertire perché tu hai la vittoria dice il signore a me la gloria a te la vittoria io non vado dietro le filosofie religiose che dicono eh il nemico si sta divertendo no no il nemico lo stai facendo divertire prova a mettere Gesù tra te e il nemico vediamo se si diverte ancora Giovanni dai prendi Gesù se hai tu il nemico prendilo Gesù mettilo davanti vediamo se si diverte ancora no 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 siamo noi che gli diamo il potere è troppo facile sai questa è una cosa che Satana stesso ha messo negli orecchi dei fili di Dio religioso tu dici che la colpa la metta comunque io gioco nella tua vita eh lui si sta divertendo e non lo combatti eh lui si sta divertendo lui si diverte perché tu gli hai la porta aperta perché c'hai le porte aperte c'è una causa lui entra e dice ah mi hai invitato buongiorno giochiamo prova a nominare Gesù prova a fidare i problemi a Gesù chiudiamo davvero che chiudo Dio ci insegna a pregare per qualsiasi cosa circostanza anche se è banale vi posso garantire ne vale la pena pregare Dio ci insegna a non permettere a brutti pensieri di farci rubare la pace perché i brutti pensieri ti ruberanno la pace l'identità il destino e la chiamata te la rubano eh Dio ci insegna che la lingua che è stata disgraziata può portarci su sentieri sbagliati ti sei usata male se tu hai una lingua che parla male non ci amazzate impariamo a usare bene la lingua molto spesso la pace viene meno perché siamo noi stessi ad auto maledirci io sono senza soldi brava bravo ti sei maledetto lo sai io non ho bravo dia la persona accanto a te di tutto quello che hai bisogno sta nei cieli e non dire mai più che non hai perché sei figlio di Dio ti permettere mai più di dire non hai sei figlia di un re quando ti serve qualcosa vai su e te la prendi dice la scrittura che i violenti vanno nel cielo e con violenza ereditano le cose di Dio anziché lagnarti anziché miagolare ruggisci veramente sto chiudendo Davide ok molto spesso la pace viene meno perché siamo noi stessi ad auto maledirci Dio ci insegna a fare le scelte giuste non le scelte che assecondino la nostra carne ma scelte che avvertono a fare la volontà di Dio Dio ci insegna tutto ma tu vuoi imparare? chiudo se non vuoi imparare allora non ti lamentare perché Dio insegna quello che perché Dio ci insegna che quello che uno semina quello raccoglie non è colpa mia pastore io devo fare tu che ne dici? cosa vuoi che io ti debba dire? hai pregato? sì cosa senti? è da parte di Dio? sì fallo non puoi dipendere da me sei tu che devi dipendere da Dio poi magari non funziona tu me l'hai detto pur la colpa va bene è perché così così siamo noi allora io preferisco che tu vai da Dio che tu mi debba dire sì me l'ha detto Dio che ci sbagli almeno capisci qual è la voce di Dio la prossima volta chiudo veramente Dio ci insegna che quello che uno semina quello uno raccoglie il mondo non ha la pace vai Fabio il mondo non darà mai la pace vai 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 sottofondo il mondo non ti darà mai la pace se tu stai cercando la pace in questo mondo non la troverai Gesù invece ti ha già dato la pace e ripeto questa pace la hai gratis tu la vuoi? tu la vuoi questa pace? allora mettiamoci in piedi e mi